Sembra di sentire la storia del padrino di Coppola, solo che questo ha gli occhi a mandorla. Zhang Nai Zong si sentiva il capo della mafia cinese in Italia e così di conseguenza agiva. Faceva da pacere, dava ordini e veniva onorato e rispettato come un vero padrino. Insomma, faceva il bello e il cattivo tempo nella sua organizzazione criminale. Abitava a Roma, in via Marconi, ma era Prato, dove si recava quasi tutte le settimane il cuore dei suoi affari. A tenere i contatti la sua amante di Prato, l'unica donna a finire in manette, che era di fatto la segretaria dell'organizzazione. La presenza della mafia cinese a Prato si è sempre sospettata e per la verità esempi risalenti a oltre 20 anni fa ce ne sono anche stati. Oggi invece abbiamo conferma della piena operatività di una mafia cinese che opera non solo in Italia, ma in Francia, in Germania, in Olanda, in Spagna. Quindi ha una capacità di proiettarsi non solo dal punto di vista criminale, ma anche dal punto di vista economico. Le mafie straniere, per lo più, quando operano in territori in cui sono presenti le nostre mafie, hanno un ruolo subalterno e molto spesso di collegamento per attività criminose, ma non di controllo del territorio. Laddove non vi è invece il radicamento di una mafia autoctona, e allora c'è possibilità di sviluppo di mafie straniere diverse, così come è avvenuto a Prato, dove appunto aveva sede l'associazione mafiosa cinese. Zhang, secondo varie intercettazioni ambientali, si autodefiniva il boss, il capo dei capi, ma era riconosciuto come tale da molte e molte i suoi connazionali. Secondo le traduzioni approfondite che sono state effettuate, la parola mafia veniva espressamente utilizzata da molti dei conversanti. La definizione del capo dei capi, il GIP nella sua ordinanza, è sicuramente una definizione che pernea perfettamente il personaggio. Ieri, mentre lo pedinavamo, lui era a mangiare in un ristorante e numerosi cittadini cinesi, residenti a Prato, si sono avvicinati al ristorante, sono arrivate le loro macchine, sono scese, sono andati a salutarlo, a omaggiarlo, quasi inchinandosi e sono andati via. La loro presenza solo proprio per gratitudine nei suoi confronti e per accertare ancora una volta il suo gradimento a Prato.